La gara sarà trasmessa in diretta giovedì sera alle 20.30 da Canale 3 Toscana. Vediamo anche il quadro delle partite di questa quarta giornata di ritorno. Casale contro Trapani, Cassino-Rieti e Scafati-Tortona che si giocano mercoledì e poi invece giovedì Leonis-Roma-Virtus-Roma. Il derbissimo, fra l'altro Roma ha cambiato allenatore, è stato esonerato l'Eurobasket. Corbani al suo posto è Luciano Nunzi che ricordiamo a Rieti. Legnano contro Agrigento, Bergamo contro Treviglio, Biella Capodorlando e poi come è detto la menzana che gioca a Latina. Vedremo se nelle prossime ore ci saranno anche notizie riguardanti il mercato. Abbiamo già detto che venerdì è programmata una conferenza stampa, venerdì pomeriggio nella quale la proprietà farà un po' il punto della situazione, nella quale la proprietà ha chiesto anche la presenza delle altre componenti societari e magari dei tifosi, oltre ai giornalisti. Quindi attendiamo sicuramente notizie. Ieri si è votato per il rinnovo della proposito di minoranza della società delle cariche di Iotifo Menzana. Il nuovo Presidente Guido Guidarini arriverà alla comunicazione nelle prossime ore, era anche a dire vero l'unico candidato. E poi c'è un nuovo consiglio di Iotifo Menzana, del quale avremo modo di parlare nelle prossime puntate di Basket Time. Andiamo invece a parlare, ad aprire una parentesi un po' più larga del solito oggi, su quelle che chiamiamo le minors, le serie minori, ma non solo perché abbiamo ospite Edoardo Pannini che ho detto è tesserato per il Cus Siena e del Cus Siena parleremo, ma fa parte anche della formazione Under 20 della Menzana. Prima di farlo parlare gli abbiamo fatto una sorpresa, c'è una clip che lo riguarda. Per il Cus Siena Per il Cus Siena Per il Cus Siena Con la soprammaglia Sunriff perché l'anno scorso si è stato anche aggregato alla prima squadra, è stata una bella esperienza credo. Sì, bellissima esperienza, da metà stagione quando Masciarelli è andato in prestito a Pescara, sono stato chiamato insieme ad altri ragazzi delle giovanili a fare gli allenamenti durante la settimana e poi uno a turno doveva andare in panchina e ho avuto l'opportunità e la fortuna di fare diverse panchine in A2. Ho fatto un po' tutta l'altra fila delle squadre, anche come tifoso ti abbiamo visto anche festeggiare un paio di scudetti quando eri un po' più piccolo. Quest'anno è l'Under 20, è allenata da Maurizio Lasi. Sì, Maurizio Lasi è venuto ospite tra l'altro la settimana scorsa, abbiamo da poco fatto il derby, l'ultima partita che abbiamo fatto in casa è stato il derby contro la Virtus, abbiamo vinto gli 10 punti, comunque la situazione in campionato ci vede terzi in classifica, abbiamo perso in trasferta contro le prime due che sono Castelforentino e Empoli, Castelforentino metà squadra e fa parte della Serie C, comunque fa il campionato della Serie C, sono abituati a giocare insieme e a giocare ad alti livelli comunque. Noi sia per assenze dovute a infortuni, sia per appunto ci sono diversi giocatori come Cepic e Del Debbio che sono a pieno regime nelle roste della prima squadra e quindi non sempre possono essere a disposizione nostra e quindi dobbiamo un po' arrangiarci e magari a volte giocare anche contati, precisi, però comunque ci stiamo dando da fare, siamo in terza posizione, per ora è una posizione abbastanza buona perché le prime quattro poi passeranno alla fase successiva, quindi siamo abbastanza soddisfatti. Poi ti faccio riprendere fiato, però abbiamo visto anche al momento della presentazione della squadra del CUS, ti ha dato la maglia Prandin, come sta andando questa avventura nel campionato di promozione? Anche lì molto bene, io ho provato quest'anno a fare un'esperienza nuova, visto che sono all'ultimo anno di giovanili e ho voluto provare una squadra senior, il CUS fa il campionato di promozione, anche lì siamo in terza posizione, però lì siamo molto contenti della posizione perché siamo una squadra molto giovane, tutti studenti universitari e in quel campionato di squadre così giovani ce ne sono davvero poche, anzi a volte troviamo avversari come l'ultima partita abbiamo fatto domenica a Rifredi dove forse il più giovane avrà avuto sui 35 anni, quindi è una bella esperienza e anche lì le prime otto andranno a playoff, quindi essendo in terza posizione avremo anche il fattore casa nel primo turno del playoff e quindi speriamo di continuare in questo modo. Andrea Frullanti invece, secondo me manca un po' al panorama giornalistico televisivo negli ultimi giorni, l'abbiamo recuperato apposta, stiamo pian pianino tirandogli la volata, e sta curando ormai da qualche mese sulle pagine online di Palla al Cerchio, il blog che segue il basket bianco-verdi, ma diciamo senesi a 360 gradi, una rubrica che secondo me è molto carina ma anche molto difficile perché parlare di Minors, insomma bisogna essere belli aggiornati, o Basket City è il titolo. Esatto, Basket City, questo è il nome che abbiamo coniato con il nostro team leader Beppe Nigro che salutiamo, ovviamente no, al di là di tutto. Un divertimento perché diciamo la razza quest'anno con la promozione della Virtus in Serie B, Palla al Cerchio è nata quando la mensana era in noi in Serie B, ripartiamo e curiamo qualche cosa anche che riguardi le altre squadre della città perché insomma la cultura cestistica di Siena non è che la scopriamo oggi, quindi necessariamente c'è un punto settimanale focalizzato sulla Virtus che dopo la promozione l'anno scorso si trova che stanno a affrontare con qualche difficoltà fisiologica il campionato di Serie B, però spaziamo anche sulla C, sulla D dove ci sono il Costone, c'è Colle, c'è Poggi Ponsi, c'è Asciano, insomma è un bel panorama insomma perché a testimonianza che sono tanti insomma nell'orbita basket sienese che ancora circolano. Poi entriamo nello specifico, tra l'altro questa storia di Basket City era stata coniata, non Mauro, per Bologna dove oggettivamente continua a stare molto bene, un po' meglio di noi, però il movimento a Siena c'è, rimane ed è un movimento che sarebbe bene non disperdere, sia a livello di giovanili che di prime squadre. Ma non solo io aggiungere a quello, anche il torneo, i tornei amatoriali, Wisp, per certi versi, lui ha parlato di vecchi di 35 anni, il Kenno 2, insomma è un po' di tenere scopo, però lasciamo stare magari. No, a parte di scherzi, però in quel contesto lì ci sono fiori di ragazzi che hanno calcato palcoscenici anche abbastanza importanti e che si dilettano a giocare a quel livello lì e anche quello è un po' il polso della situazione che vuol dire che ancora è stratificato l'interesse per il basket giocato e per il basket in senso più ampio ed è un patrimonio che penso sia difficile disperdere, ci vorrebbe veramente tanto impegno, anche se ovviamente le vicende di questi ultimi anni hanno cercato di intaccare questo grande serbatoio di passione, però veramente è un qualche cosa che non va disperso e infatti il dispiacere di vedere tutte queste difficoltà della mezzana nasce anche da questo, perché comunque un qualche cosa che ti mantenga la passione a un certo livello di intensità e anche di riconoscibilità a livello nazionale è importante, perché poi il sottostrato è solamente di assoluto livello, perché tenendo molto di quello che è l'indotto senese, poi va detto che ci sono invece società che fanno veramente un grande lavoro e il fatto stesso è che quest'anno la mezzana a livello giovanile abbia fatto una scelta autottona, cioè nel senso pofalizzando tutto il proprio esperimento sui ragazzi del posto, questo dimostra che comunque c'è l'intenzione ancora di tirare fuori qualche cosa di buono, la passione è quella che dicevi te non va assolutamente dispersa. Entriamo nello specifico, fra l'altro apro una parentesi, contiamo di dedicare quando magari ci sarà una sosta del campionato di A2 per la Coppa Italia, una puntata dando più spazio sia alla Virtus Calcostone che credo lo meriti. Entriamo nello specifico, a proposito abbiamo fatto prima la clip su Edoardo Pannini, non ne abbiamo fatta una su Andrea Frullanti, però abbiamo una foto molto interessante che lo riguarda e che sta andando per la maggiore e probabilmente… Grazie, è un manifesto elettorale. Esatto, le elezioni ci sono state da poco assieme, però per il futuro magari potrebbe essere… No, ce la spieghi questa cosa? No, allora sono stato sindaco per un'ora, tra l'altro il 20 di ottobre, per celebrare il matrimonio di un mio carissimo amico e niente, la genesi di questa foto è che me l'hanno fatta, ovviamente già circolava sulle varie chat di Whatsapp e per l'epifania, ho fatto questa epifania, per davvero mi sono rivelato per così, però insomma diciamo è stato un bel momento, al di là di tutto, per chi è abituato a parlare in pubblico e noi, però magari in quella situazione mai sono stato emozionato come in quelle circostanze, insomma, per cui è una bella giornata e una bella foto. Tornando invece a questioni cestistiche, parliamo prima della Virtus che ha perso netto a Firenze oggettivamente quella trasferta off-limits. Sì, quella diciamo potrebbe essere una partita battezzabile perché la Fiorentina è partita per vincere questo campionato anche se poi ha trovato qualche difficoltà in corso d'opera, insomma, ci sono squadre come Omenia che sta giocando molto meglio, la stessa San Miniato che forse gioca addirittura meglio di Omenia però, a dire la verità, insomma, i favori del pronostico erano Virtus e Fiorentina e Omenia che se la sarebbero dovute giocare fino in fondo. La Virtus chiaramente ha fatto quello che ha potuto sta cercando anche la Virtus di rinnovarsi, non è facile perché chiaramente il campionato Serie B è il trampolino di lancio verso il professionismo vero e proprio e la Virtus ha deciso di puntare su il gruppo storico dei giocatori, mi riferisco ai Bianchi, agli Imbro, agli Ollei, allo stesso Alessandro Nepi che si è ritrovato come cambio del play, insomma, anche lui è un giocatore che si è trasformato nel corso di stagione, però ha deciso di puntare con coach Maurizio Tozzi su un gruppo storico da portare avanti che si era meritato sul campo la promozione. Chiaramente qual è la difficoltà? La difficoltà è trovare squadre che sono più attrezzate anche a livello fisico, proprio la di impatto puro, come preparazione fanno molti più allenamenti, fanno doppi allenamenti il lunedì, il martedì e la Virtus chiaramente ha tutti i giocatori che magari lavorano e poi giocano una palla a canestra, per cui non è assolutamente facile. La situazione classifica lo rispecchia perché la Virtus è penultima con due vittorie all'attivo, dietro di lei c'è solo Domodossa a due punti, Cercin ha trovato due risultati nelle ultime giornate per cui è un po' scappata via e sostanzialmente sarà a corsa a due per evitare l'ultimo posto che la retrocessione diretta, però la Virtus è persa a Domodossa, però c'è il ritorno in casa, quindi tutto può confidare in questa partita, anche se qualche altro punto in casa insomma è quello che auguriamo ai rosso-blu. Sta un po' meglio il costone anche se siamo al piano di sotto, siamo in C-Silver, la vittoria su Carrara, se non sbaglio ieri vittoria a Casalinga, c'è anche il Colle poi nel giro. Esatto, sì, questo è un campionato dove le sinesi sono assolute protagoniste, il costone contro Carrara ha fatto una prestazione super, ora qui dai bruttini ai beni in casa, insomma anche loro sono assolutamente trascinanti, anche qui si è puntato sulla continuità con coach Braccagni, insomma per cercare di agguantare quei play-off che l'anno scorso sono stati solamente sfiorati ma che sono sfumati veramente in extremis all'ultima giornata. Grande rivelazione invece Colle che da neopromossa è diventata non solo una matricola terribile ma è un'autentica rivelazione del campionato, ha cambiato allenatore, c'era Pierfrancesco Minella l'anno scorso, quest'anno c'è Mario Pascini, il gruppo è rimasto quello e sono terzi in classifica dietro le più forti, insomma per cui Colle è una grandissima rivelazione. Costone ha avuto qualche passaggio a vuoto però nel senso è ottava adesso in piena corsa play-off, la classifica è molto corta per cui hanno tutte le carte in regola, Colle con maggiori chance di centrare play-off ma anche il Costone è assolutamente in corsa e se replica prestazioni come quella vista ieri contro Carrara, insomma sicuramente i play-off sono assolutamente alla portata. Poi il bello Mauro di queste due realtà cittadine è che pochi o tanti che siano, non sono tantissimi però hanno il loro zoccolo duro dei tifosi, il Costone soprattutto ma anche la Virtus. Ma comunque anche la Virtus è cresciuta molto sotto questo aspetto, nel senso la Virtus ha fatto un grande gruppo sia progressivamente con i vari gruppi di giocatori ma l'aspetto societario si è molto irrobustito e ha una sua identità molto molto forte ed è quello che gli permette di fare anche scelte molto belle perché secondo me se te scegli di andare con un gruppo perché sei meritato sul campo accettando quelle sono le difficoltà inevitabili che ti vengono poi nel campionato è comunque una scelta assolutamente meritoria. Il Costone non ne parliamo nemmeno perché è veramente un gruppo granitico nel presenza parola e questo per Valle Piatta è sinonimo di continuità nel tempo, effettivamente di questo penso la città è comunque contenta perché anche lì ritornando alla passione e in questi posti vicchi la passione poi non morirà mai perché c'è sempre qualcuno che l'alimenta. A tutto questo aggiungo veramente in maniera telegrafica i tanti giovani che afferiscono a queste società e diciamo sono società che hanno scelto di costruire partendo da lontano, partendo dalle giovanili per farli arrivare in prima squadra. Il Costone è una di queste, la Virtus lo fa da sempre insomma anche con grandi collaborazioni, con i doppi tesseramenti, insomma tanti giocatori vanno a giocare anche a fare esperienza nei campionati senior e anche questo è un bel patrimonio da non disperdere assolutamente. Allora siamo in chiusura, salutiamo il giovane che stasera ci ha fatto visita, un boccalupo per il basket, anche per la tua carriera di studio ovviamente che poi oggettivamente è la cosa più importante, Edoardo Pannini. Grazie mille a tutti. Saluto Andrea Frullanti che ringrazio e invito in futuro quando hai voglia, insomma noi siamo fatti e aspettiamo. Gli impegni istituzionali me lo permetteranno. Mauro Bindi invece lo ritrovo anche lunedì prossimo. Sì sì, mi trovi qui. Siamo qua, come sempre. Lungo via. No, no, ci mancherebbe altro. Lunedì prossimo Basket Time, vi ricordo ancora una volta la partita in diretta della Menzana giovedì sera alle 20.30 su Canale 3 Toscana da Latina, noi chiudiamo con l'intervista al coach del costone Francesco Braccagni che ieri ha vinto e poi riproporremo la vittoria della Menzana contro Casale Monferrato. Buona serata. Sì, abbiamo fatto una grande partita, devo fare complimenti ai ragazzi, perché veramente sono stati eccezionali dal primo all'ultimo minuto, abbiamo fatto una grande difesa contro uno dei migliori attacchi del campionato, grandissima squadra Carrara, ma stasera veramente ci siamo superati in difesa, abbiamo fatto fare 61 punti, a dire in futuro in fondo abbiamo regalato qualche canestro, se no probabilmente finivano intorno a 50 punti, quindi veramente sono contento di questa prova, dei ragazzi se lo meritano perché abbiamo perso un paio di partite dove non ci meritavamo di perdere, però purtroppo non c'erano venuti due punti e quindi c'era grande rammario fra i ragazzi, però stasera abbiamo fatto una grandissima prova di carattere. Sì, la settimana era la scorsa dove abbiamo un po' ci siamo allenati a ranghi ridotti perché c'erano un paio di influenze, un paio di infortunati, però i ragazzi sono stati bravi a rimanere sempre sul pezzo tutti questi giorni, abbiamo fatto poi una buonissima settimana questa e quindi sono contento di questa settimana e di com'è finita, abbiamo fatto una grandissima partita. Un'occhiata al futuro, sabato prossimo una trasferta insidiosissima di Ponte d'Era, che squadra ti aspetti? Mi aspetto un'altra battaglia perché sono veramente tutte battaglie, tutte partite difficili, tutte partite alla nostra portata, però se facciamo bene, se difendiamo forte e poi in attacco siamo un po' più precisi perché a volte perdiamo un po' troppi palloni e questo poi si subisce, però credo che i ragazzi da questa partita trarranno un grande beneficio. Sì, una vittoria forse nel punteggio anche un po' inaspettata perché forse ci aspettavamo una partita un po' più combattuta contro una squadra seconda in classifica, il migliore attacco del campionato, però il punteggio credo sia più per merito nostro e per demerito loro. Una vittoria ci voleva perché venivamo da due sconfitte forse anche un po' ingiuste per come erano maturate, più per demeriti nostri che per meriti degli avversari, quindi due punti che ci volevano. Ora arriva un'altra tappa di questa stagione, la trasferta di Ponte d'Era, che squadra ti aspetti rispetto a quella che abbiamo visto qua a Siena? Sicuramente è una squadra con un innesto in più, hanno ripreso doveri, un giocatore e giovani qualche anno fa e una squadra che anche all'andata ci fece penare non poco, la vittoria arrivò proprio nell'ultima azione, loro tirarono per vincere e sbagliarono, quindi sicuramente sarà una partita difficile, una partita tosta, la loro squadra esperta, campo difficile, quindi sicuramente sarà un'altra battaglia da martedì testa a Ponte d'Era e guardare avanti. Sì, una vittoria che stasera forse sembrava più facile di quella che è stata, il punteggio è un pochino inaspettato perché loro secondo in classifica sono una squadra molto forte in attacco, forse un pochino meno aggressiva in difesa, ma stasera abbiamo fatto veramente una prova corale in difesa, abbiamo fatto una super prestazione. Questo è solamente frutto di lavoro duro in settimana e tutti quanti cerchiamo di mettere sempre più tanto e quindi il grazie stasera va a tutta la squadra che in settimana nonostante ci siano state un po' di defezioni a livello di malattia o insomma di influenze varie, ce l'abbiamo fatta a fare una settimana al massimo. Ora Ponte d'Era, che partita ti aspetti? Ponte d'Era è una partita come all'andata, abbiamo vinto di due punti in casa, loro sono una squadra esperta, hanno giusti, meucci e sicuramente sono giocatori a cui non si insegna niente, quindi bisogna scendere in campo con la mentalità di stasera, soprattutto dietro in difesa, reagire forte e da lì poi si prende anche il ritmo dell'attacco, quindi avanti così e forza costone. Buona serata a tutti dal palaestra di Siena. Grazie. 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 Grazie.